Domenica 30 settembre, a Gromo, la camminata a quattro passi verso l'integrazione. Dopo tre edizioni a Rovetta, perché quest'anno a Gromo? Allora, perché a Gromo? Proprio come hai detto tu, era tre anni che la facevamo nella zona di Rovetta, il comitato, gli organizzatori così avremmo deciso di cambiare territorio, di andare a visitare, diciamo così, anche per sensibilizzare un po' tutto il territorio dell'Alta Val Seriana. E si è scelto Gromo perché, innanzitutto, abbiamo chiesto il patrocinio all'amministrazione comunale di Gromo e loro ben contenti di ospitarci, per cui abbiamo valutato di cogliere l'occasione di spostarci in quel di Gromo. Come si svolgerà la camminata? Allora, la camminata si svolgerà così, dalle ore 9 alle ore 10 di mattina, presso la piazza Sandro Pertini a Gromo, che si trova proprio nelle vicinanze della sede della Croce Blu di Gromo, sono aperte le iscrizioni. Cosa vuol dire? Si arriva lì, si iscrive, ci sarà un gazebo, dove al momento di iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare poi durante il percorso della camminata, per cui, come dicevo, alle 10 poi si parte tutti assieme, si fa un percorso lungo le vie appunto del bel borgo medievale di Gromo. A un certo punto, durante il percorso, si arriva davanti alla locanda del calciatore, dove è allestito il primo buffet, diciamo così, che funge un po' da colazione. Dopodiché, una pausa di un quarto d'ora circa, si riparte, si arriva in piazza Dante a Gromo, dove troviamo un buffet offerto dagli alpini di Gromo, e qui colgo l'occasione di ringraziarli davvero per quello che faranno per la nostra manifestazione, e qui, durante il buffet, ci sarà un buffet che funge un po' da aperitivo. Ci sarà anche il corpo musicale di Gromo ad accoglierci. Dopo una pausa di circa un'oretta in piazza, si riparte lungo il percorso prestabilito e si aggiunge all'oratorio. Allora, all'oratorio ci sarà il pranzo, per cui ci si trova tutti lì, speriamo di essere veramente in tanti. Al termine del pranzo, il pomeriggio prosegue con Leslie Abadini, che gestirà un po' tutto il pomeriggio, per cui ci sarà un karaoke, musiche per tutti. Ricordiamo anche l'obiettivo di questa camminata. Sì, come ogni anno, anche quest'anno è un obiettivo sociale, per cui il ricavato della camminata sarà utilizzato per, questa volta, un progetto davvero importante e impegnativo. La cooperativa Sottosopra, nel 2013, inizierà i lavori per una comunità residenziale per disabili nel comune di Parre, nella zona di Sant'Alberto, per cui è importante che ci sia una buona partecipazione a questo evento, che si svolgerà comunque anche in caso di maltempo, in caso appunto di precipitazioni abbondanti, non ci troveremo alle 9 alla piazza Pertini, ma alle 12.30 comunque in oratorio, dove un gruppo di signore che in questi giorni stanno lavorando e che ringrazio, stanno preparando il pranzo, prepareranno il pranzo, per cui passeremo lo stesso il momento del pranzo e il pomeriggio insieme. Ho anche altre persone da ringraziare che hanno collaborato all'organizzazione della camminata, sicuramente i familiari dei servizi per disabili, alle associazioni e alle cooperative che aderiscono a questa iniziativa, gli alpini, tutti quanti coloro che parteciperanno e lavorano e stanno lavorando per far sì che la camminata di domenica sia una giornata piacevole e divertente in compagnia dei nostri amici italiani. Grazie a tutti.